Un grande patto civico per il dopo Ciampi, la più inutile e dannosa esperienza amministrativa che potesse capitare alla città di Avellino. Il gruppo mai più rinnova il proprio impegno anche per la prossima contesa elettorale di primavera e apre ad un dialogo quanto più ampio possibile, a patto che si rispettino regole certe e chiare. Mi sembra interessante registrare che c'è la volontà di allargare rispetto a un campo più largo, però è un campo che, come ripeto, deve avere delle regole chiare e ben definite da subito. Una rigenerazione della classe politica, serve offrire opportunità a giovani che vogliono arrivare in questo palazzo, a persone competenti che vogliono venire al comune di Avellino a dare una mano per risolvere i problemi. Serve essere chiari rispetto a storie politiche passate, che sono storie che meritano rispetto, attenzione, ma devono essere storie chiuse, conclamate e definite perché si possa fare un passo avanti. E serve poi lavorare sulle idee. Noi non siamo interessati ai portatori di voti, noi siamo interessati ai portatori di idee, a persone che hanno competenze, che hanno progetti, che hanno iniziative, per cui la città può fare un passo avanti. Il problema non sono i dei miti o i mancino, la questione vera è la discontinuità con il passato. Serve un rinnovamento nel metodo, partendo dall'assunto che chi ha governato negli ultimi decenni la città l'ha lasciata in condizioni disastrose. Sono un avellinese che ha il diritto di dire che la città oggi non funziona, che la città oggi è un disastro e che quindi per risolvere una città disastrata non ci possono essere le stesse persone o la stessa classe politica che ha prodotto quei disastri.